gentili telespettatori buona giornata nel video precedente abbiamo visto che alcuni giornali tramite i propri giornalisti cercano di influare di influenzare il centrodestra come facendogli sapere tramite le loro colonne che che giorgia meloni premier insomma la logica di chi ha un voto in più diventa premier non funziona più perché non funziona più perché la sinistra non vuole giorgia meloni premier a questo punto preferirebbe salvini o berlusconi o chiunque altro perché giorgia meloni rappresenta la vera destra italiana mentre berlusconi non c'entrava niente con la destra e salvini è limitazione della destra pertanto adesso preferirebbero chiunque altro al posto che giorgia meloni ormai la macchina e l'apparato della sinistra è completamente rivolto verso giorgia meloni salvini ormai è passato in secondo o in terzo piano addirittura ma nonostante ci siano i giornali che cerchino di influenzare il i leader cioè salvini e berlusconi a non accettare più giorgia meloni come premier anche se ha un voto in più dicono dovrebbero mettersi a cercare una figura terza arrivano anche le voci all'interno della lega ecco a parte i giornalisti che dicono è la storia di un voto in più che governa chi ha un voto in più non regge più invece regge benissimo ma i giornalisti cavalcano delle dichiarazioni che arrivano da i partiti ad esempio il giornalone riferisce alcune frasi c'è un problema come si spiega la meloni che il meccanismo per la premiership cambia ora che nel centrodestra e formalmente prima voci dalla lega ecco come si spiega meloni che il meccanismo cambia chi decide che cambia la lega perché è diventata seconda allora dice allora quello che vi che vi dicevo già mesi fa era che berlusconi e salvini preferirebbero chiunque altro premier piuttosto che la meloni proprio per una questione di invidia interna al centrodestra come mi ha sorpassato si sente lei la prima allora il premier lo farà qualcun altro vi ricordate come dicevano all'interno di forza italia beh visto che fratelli d'italia è rimasta fuori dal governo allora la storia che chi ha un voto in più indica il premier non regge bisognerà rivalutare visto che giorgia meloni rimasta fuori dal governo quindi già da mesi già da mesi nei due partiti alleati tra virgolette vien da ridere chiamarli alleati lega e fra e forza italia già non volevano la meloni premier questione di invidia politica è ovvio l'invidia c'è dappertutto figuriamo se non c'è non c'è in politica poi che sia una competizione sana è una cosa però spesso l'invidia non si trasforma in una sana competizione ma una in una competizione malsana un altro dice e poi oggi un pro di noi non ce l'abbiamo quindi dicono giorgia meloni chi glielo dice adesso che vogliamo cambiare le regole un pro di noi non ce l'abbiamo sostiene sostiene un autorevole dirigente della lega che evidenzia le differenze rispetto al passato quando berlusconi era egemone dice mentre adesso sarebbe difficile trovare un federatore per due forze di eguale peso ma non hanno più eguale peso la lega fratelli d'italia dagli ultimi sondaggi dopo le elezioni fratelli d'italia è al 21 per cento e la lega è al 17,5 non c'è più due forze di egual peso ma il leghista centinaio pur restando fedele alla logica del voto in più dice se invece si scegliesse ad esempio il più moderato il più europeista allora andrebbe chiarito mettendo in campo nuovi criteri allora chi sarebbe il più moderato berlusconi allora facciamo premier berlusconi piuttosto che fare la meloni oppure gli mettiamo il vostro giorgetti piuttosto che la meloni però come 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 vi dicevo prima non hanno bisogna fare i conti con l'oste non hanno fatto i conti con quello che è il primo partito come pensano la lega e forza italia di andare a dire a giorgia guarda visto che sei prima tu allora vorremmo cambiare le regole per non farti governare vorremmo vorremmo cambiare le regole e fare in modo che non è che chi ha un voto in più può fare il premier ma scegliamo in un altro modo secondo voi che cosa gli può rispondere giorgia meloni in maniera educata ammesso che ci siano delle parole educate per rispondere una roba del genere quindi la storia del pro di berlusconiano non regge insomma qualcun altro dice la russa dice bisogna dimostrare agli italiani che la coalizione non è schiacciata a destra ma è di centro destra dice la russa ma la russa non sta avvallando l'ipotesi di di cambiare le regole pertanto questo è quello che io lo sapevo che era già da tempo che era già da tempo che in forza italia e nella lega vedevano giorgia meloni più che un'alleata un'avversaria un'avversaria ecco qualcun altro ad esempio il leader dell'udc cesa rivolge un appello al cavaliere affinché per un verso promuova una federazione centrista capace di largare i confini attuali e per l'altro individui insieme agli alleati una personalità a cui affidare la guida della coalizione alle prossime elezioni altrimenti sarebbe complicato vincerle dice cesa dell'udc caro cesa la guida della coalizione che ti piaccia o no e di giorgia meloni cioè ma è un partito di destra ci deve essere un'altra persona e così è se vi pare questa è la realtà e giorgia meloni a capo del centrodestra adesso che non sia che sia un partito conservatore fratelli d'italia un partito come lo chiamano in italia di destra questo è un fatto non si può vincere le elezioni e mettere un altro giuseppe conte non avrebbe senso di maio aveva messo giuseppe conte assieme a salvini perché di maio non si sentiva in grado di fare il premier io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti e a presto